Benvenuti con l'informazione di Unica TV con il notiziario dell'edizione di Monza e Brianza. Andiamo a vedere le notizie principali della giornata. Arrestate dai carabinieri di Monza, 11 persone, parte di tre differenti gruppi criminali attivi tra l'Abrianza, Milano e Pavia, sono accusate a vario titolo di spaccio di stupefacenti e tentata estorsione. Inaugurata a Maccherio, la nona casa di comunità della provincia di Monza, offrirà servizi di medicina specialistica e sociosanitari e sarà punto di riferimento per tutta l'area dell'Abrianza centrale. Istituzioni a confronto in provincia sulla salvaguardia del verde in Brianza, messo a rischio dal cambiamento climatico, uno scambio di esperienze e di riflessioni per preservare il patrimonio arboreo. E ora andiamo a vedere i servizi. Sono accusati a vario titolo di detenzione spaccio di stupefacenti e tentata estorsione. I carabinieri della compagnia di Monza, con il supporto dei colleghi del reparto operativo, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP di Monza nei confronti di 11 persone. Sette sono finite in carcere, quattro ai domiciliari, perquisite altre sei persone indagate a piede libero. L'indagine è scattata nel marzo del 2021 nel mirino degli investigatori tra i diversi gruppi criminali dediti al traffico e allo spaccio di importanti quantitativi di droga, cocaina, marijuana e hashish. Tutto è partito dall'arresto in flagranza di un pusher di Monza, appartenente a un giro di spacciatori attivo nei quartieri di San Rocco e San Fruttuoso, per allargarsi ai fornitori dei monzesi, ovvero un gruppo operativo, nelle province di Milano e Pavia, responsabile anche di un tentativo di estorsione nei confronti di un cliente per un debito di droga di 3.000 euro. A sua volta la banda si riforniva da un sodalizio con maggiori ramificazioni, operante nel milanese, specializzato nella vendita all'ingrosso e al minuto di cocaina. Le comunicazioni avvenivano con l'applicazione SureSpot, ritenuta più sicura. Nel corso dell'attività è stato tratto in arresto un corriere, mentre consegnava 35 kg di marijuana e ha individuato un deposito nel milanese dove erano nascosti 25 kg di marijuana, 7 di hashish e 2 di cocaina, sequestrati preventivamente beni agli indagati ai fini della confisca, per un valore di 115.000 euro. Tre stranieri sono stati portati dagli agenti della questura di Monza e i CPR di Milano e Bari per la loro espulsione. Irregolari sul territorio nazionale si sono resi responsabili di numerosi reati. Il primo è un 21enne egiziano. Giovedì 7 dicembre è stato arrestato dalla squadra mobile di Monza per spaccio di sostanze stupefacenti davanti alla stazione ferroviaria cittadina. Era già aggravato da diverse denunce per reati in materia di stupefacenti, resistenze e porto di oggetti atti a offendere. Il secondo è un egiziano. Uscito dal carcere di Monza a ottobre dopo aver scontato un cumulo di pene per rapina, lesioni e tentato furto aggravato. La sua istanza di protezione internazionale è stata rigettata, con conseguente obbligo di rimpatrio. Il terzo è un tunisino di 36 anni, condannato a 3 anni e 4 mesi per reati inerenti agli stupefacenti. Era già stato espulso nel 2011. Rientrato illegalmente in Italia, nel 2014 è stato condannato a 10 anni per omicidio. Ha ucciso un connazionale a Brescia con un'arma bianca. Anche in carcere si è reso responsabile dei reati di violenza, resistenza, incendio, oltraggia pubblico ufficiale, istigazione a delinquere, danneggiamento e procurato allarme. Si è tenuto ieri sera in Piazza Conciliazione Adesio un presidio organizzato da Lampi per contestare la decisione del Comune di concedere il patrocinio e l'utilizzo della Sala Pertini per la presentazione del libro dedicato a Giorgio Pisanò, fondatore del Movimento Fascismo e Libertà. Circa 300 manifestanti presenti, tra cui l'ex deputato Emanuele Fiano, con interventi e letture della Costituzione per ribadire i valori dell'antifascismo, la serata di presentazione del libro si è comunque svolta poco dopo, senza tensioni. Sulla questione era intervenuto qualche ora prima anche il sindaco di Adesio, Simone Gargiulo, con un post sui social poi cancellato. Fuori luogo a darci dei fascisti, patrocinare un evento non significa aderire al tema, sono le sue parole. E ora proseguiamo con i servizi. È stata inaugurata a Macchierio, la casa di comunità numero 9 della provincia di Monza e Brianza, Situata in Via Italia 13, la nuova struttura punta a offrire all'utenza un punto di accesso di prossimità ai servizi sanitari e sociosanitari, con un percorso di cure personalizzato e servizi di medicina specialistica. Abbiamo il front office amministrativo per la prenotazione di prestazioni e servizi di scelte revoca del medico e poi abbiamo il punto unico di accesso dove troviamo infermieri di famiglia e assistente sociale per la presa in carica e l'accompagnamento delle persone più fragili. Abbiamo il punto prelievi aperto 5 giorni su 7, abbiamo ambulatori specialistici con percorsi dedicati ai medici medicina generale, partiamo con diabetologo, pneumologo, neurologo e oculista. Abbiamo l'ambulatorio infermieristico dell'infermieri di famiglia per prestazioni di tecniche infermieristiche quali medicazioni, gestioni di catetere e terapia e poi abbiamo lo spazio dedicato all'associazione di volontariato e terzo settore per incontri di informazioni, informazioni aperte ai cittadini, ai volontari. Obiettivo? Proseguire con il progetto di Regione Lombardia di avvicinare il servizio sanitario alle esigenze dei cittadini. Abbiamo nuovi specialisti che vengono a popolare questo territorio. Sono degli specialisti che hanno dei percorsi dedicati per i medici medicina generale di questo territorio e quindi c'è un confronto professionale stabile tra medicina generale e medicina specialistica. Integriamo la figura nuova dell'infermieri di famiglia che può aiutare il paziente cronico qui in casa comunità o attraverso una sorveglianza domiciliare quindi al domicilio del paziente cronico e abbiamo inoltre il punto unico di accesso che aiuta il paziente più fragile nell'orientarsi nella rete. La casa di comunità di Maccherio sarà un punto di riferimento per l'area dell'abrianza centrale coinvolgendo anche i comuni limitrofi di Albiate, Biassono, Sovico, Triugio e Vedano all'Ambro. Noi vogliamo che questa casa possa essere effettivamente un luogo di incontro e di risposta alle necessità che avranno i nostri cittadini in ambito sociale, in ambito medico per le fragilità e per le loro necessità dal punto di vista clinico. Gli effetti del cambiamento climatico hanno costretto in questi anni a riflettere con nuove logiche e bisogni ai temi del verde, della forestazione e della valorizzazione del patrimonio arboreo anche in Brianza. Temi attuali e pratici su cui gli amministratori locali e i portatori di interesse del territorio hanno discusso in una giornata di tavole e incontri organizzata nella sede della provincia di Monza e Brianza. È un evento atto a poter fornire poi i comuni di strumenti per poter salvaguardare patrimonio arboreo anche in funzione degli eventi climatici che ci sono stati sul nostro territorio. Diciamo che tutto è partito da fine luglio quando con gli uffici provinciali abbiamo deciso di mandare ai tutti i nostri comuni della nostra provincia praticamente una richiesta di dati per sapere come sono strutturati a livello di piani del verde, a livello di piani ambientali. Abbiamo chiamato i comuni e alcuni sindaci per poterci rappresentare le difficoltà che hanno incontrato durante quegli eventi e nelle fasi successive. Un'occasione di scambio di esperienze e riflessioni utili per avere un quadro generale e comprendere come agire in maniera integrata tra comuni e realtà del territorio con un sostegno più concreto della stessa provincia di Monza e Brianza. Poi abbiamo chiesto anche all'ordine degli architetti di partecipare, all'ordine degli agronomi, abbiamo invitato anche dei tecnici e anche comunque i presidenti dei parchi dovremmo riuscire ad ottenere degli strumenti e dei dati per poter poi fornire le amministrazioni di un mezzo di lavoro chiamiamolo così, di uno strumento di un indirizzo per poter poi operare nei mesi futuri, negli anni futuri. Mercoledì 27 dicembre a Giussano al termine della messa delle 20 e 30 nella chiesa di San Giovanni in Baraggia si terrà l'inaugurazione della nuova piazza del comparto storico di San Gian proprio in queste ore si stanno concludendo i lavori di riqualificazione che hanno interessato il rione di Robbiano terminate le opere che hanno riqualificato lo spazio antistante alla storica chiesetta sono in fase di definizione gli interventi relativi agli spazi verdi che corolleneranno il progetto di restyling e si svolgerà sabato 16 dicembre alle 12.30 all'Istituto Pavoniano Artigianelli il pranzo di Natale dedicato alle persone senza tetto di Monza e a coloro che vivono in situazioni di grave marginalità il pranzo servito ai tavoli dagli assessori e dal sindaco è un momento di ascolto delle varie storie di vita e se possibile un tentativo di inclusione da parte degli operatori come sempre consideriamo prezioso questo momento di condivisione per non restare soli spiega l'assessore al welfare Egidio Riva oltre a costituire un'occasione di incontro anche con le numerose realtà del volontariato e del terzo settore questa era la nostra ultima notizia buon proseguimento con i programmi di Unica TV e del terzo settore e del terzo settore Grazie a tutti